Faremo tutto il possibile per difendere la proprietà da questo... Una volta si diceva, anzi ma è proprio proletario, ma forse è una dizione sbagliata. Non vorrei usare paroloni, ma potrebbe parlare di sottrazione di questo bene. Saranno ancora le aule giudiziarie a far da sfondo alle vicende che ruotano attorno all'archivio vasariano. I fratelli festari, eredi dei preziosi documenti, infatti hanno denunciato la soprintendenza accusandola di omissione di atti d'ufficio. La denuncia è stata depositata lo scorso 21 settembre dal legale della famiglia. Per i proprietari, infatti, la soprintendenza toscana non si sarebbe adoperata a dovere per recuperare l'intero patrimonio archivistico. Oltre alle 31 filze custodite all'interno della casa di Vasari in via 20 settembre ad Arezzo, infatti ne esistono altre tre che attualmente si trovano all'Università di Yale e che vanno a completare l'insieme dei 34 faldoni che rappresentano l'intero corpo delle carte. Diciamo che il dovere principale della soprintendenza e dello Stato italiano era quello di riportare i tre faldoni nello Stato italiano in quanto appunto ha oggetti, quindi documenti notificati. Non solo, secondo i signori festari, la soprintendenza non ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 20 del codice delle belle arti, dei beni culturali, appunto che stabilisce che si deve adoperare nel suo ufficio per tutelare quello che sono, quello che sono i beni storici, i beni, i nostri tesori, insomma, notificati. Questa mossa della difesa arriva proprio all'indomani dell'avvio della procedura di esproprio delle carte attivata dal Ministero che in sostanza accuse i proprietari di aver frapposto ostacoli all'attività volta a garantire la protezione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentario al fine di assicurarne la pubblica fruizione. Il legale dei fratelli ha depositato una memoria difensiva. Contestando in tutte le sue parti, punto per punto, quanto il Ministero riportava nella comunicazione stessa. Quindi noi siamo fiduciosi che il Ministero prenda in seria considerazione le nostre osservazioni. A breve però le carte potrebbero essere messe in mostra all'interno del Museo dei Tesori di Arezzo, in Piazza Grande. Saranno messi in mostra, penso, tutto il carteggio di Michelangelo con il Vasari, più alcune opere del Vasari e altri documenti sempre dell'archivio. Diciamo che è una mostra che per la prima volta dà la possibilità al pubblico di poter accedere, al grande pubblico, di poter accedere a questo famoso carteggio, è bellissimo un carteggio. Grazie. Grazie.